Musica Venerdì 20 giugno, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Proclamato sindaco di Campobasso da pochi giorni, Antonio Battiste alle prese con la composizione della nuova giunta e soprattutto con la sfilata dei misteri e con la visita di Papa Francesco, rispetterò l'obbligo delle quote rosa, dichiarato lasciando intendere che sarà un esecutivo a cinque con tre assessori al PD, di cui due donne. Ci dice tutto in questo servizio Giovanni Minicozzi. Una persona garbata, sempre attenta a non calpestare i piedi a nessuno, neanche a chi lo ha preceduto a Palazzo San Giorgio. Antonio Battista, proclamato sindaco di Campobasso solo pochi giorni fa, è alle prese con la composizione della sua giunta e soprattutto con due avvenimenti importanti per la città a capoluogo di regione, la sfilata dei misteri e la visita di Papa Francesco. Due eventi straordinari, uno che si ripete tutti gli anni e al quale dovremo dare un'anima e una dimensione diversa da quella che attualmente ha. E invece poi il fatto storico, la visita di Papa Francesco a Campobasso, ma è più giusto dire al Molise. E questo è un evento da curare con particolare attenzione. Lo stiamo facendo in uno spirito di collaborazione insieme a tutte le altre istituzioni regionali e cittadine. Contemporaneamente lei sta lavorando alla formazione della sua giunta, ci può dare qualche indiscrezione? Stiamo lavorando e anche in questa circostanza stiamo lavorando bene. Ho deciso che comunque sabato mi incontro con i consiglieri di maggioranza e di opposizione per un saluto privato ed amichevole. Però sulla giunta non mi risponde, sarà una giunta 5 si dice in giro? Sarà la migliore giunta possibile, adeguata all'efficienza della città di Campobasso e quindi organizzeremo in funzione di quello che sono i rapporti politici e dei bisogni ai quali occorre rispondere. Ti era conto dell'obbligo di mettere anche la quota rosa alle donne? È un obbligo intanto di legge, per me è anche un obbligo etico e quindi non si sfugge da questa responsabilità. Ci atterremo in modo preciso alla regola. Dunque il sindaco non si sbilancia sulla composizione della sua giunta ma i beni informati sono pronti a scommettere che saranno 5 gli assessori e precisamente 3 del PD, Bibiana Chierca, vice sindaco, Pietro Maio e Alessandra Salvatore, Salvatore Cola Giovanni per l'Italia dei Valori e Massimo Sabusco per l'Udc. Sì, la presidenza del Consiglio dovrebbe andare a uno dei due eletti della lista popolare per l'Italia, ovvero Sabino Iafigliola o Pasquale Colarusso. Resteranno fuori dall'esecutivo invece tutti i gruppi monocellulari, ovvero Comunisti Italiani, Lab, Segnale Civico e Centro Democratico, ma Antonio Battista ha già annunciato che assegnerà specifiche deleghe a diversi consiglieri di maggioranza. C'è rabbia a Venafro per la decisione pressoché unanime del Consiglio regionale di dare il via libera a frattura sul piano di riordino della sanità. Dura la reazione del sindaco Sorbo, alcuni difendono l'ospedale solo a parole, ma noi continueremo a lottare anche da soli. Ha detto, sentiamo. Delusione, amarezza, rabbia, ma anche voglia di non mollare, nonostante si sentano abbandonati, soli contro tutti nella lotta in difesa dell'ospedale. Sono queste le sensazioni che si raccolgono tra i componenti del Comitato, gli amministratori e i cittadini dopo le ultime notizie provenienti da Palazzo Moffa. La quasi unanimità incassata da frattura sulla sanità, unica eccezione ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, ha fatto infuriare il sindaco di Venafro, Antonio Sorbo. Ci aspettavamo che il Consiglio regionale potesse ragionare un po' di più sul tema della sanità, mi sembra invece che la questione è stata liquidata in modo abbastanza sbrigativo e in questo dibattito le ragioni della sanità pubblica e del nostro ospedale non le ho viste poste in discussione. Questo mi è dispiaciuto e mi è dispiaciuto anche perché alcuni personaggi che siedono in Consiglio regionale si erano impegnati invece a combattere questa battaglia fino in fondo, cosa che non hanno fatto. C'è un po' di delusione da parte mia, penso da parte di tanti, e c'è anche la consapevolezza che siamo rimasti come io purtroppo avevo previsto da soli a combattere questa battaglia. Ma Venafro non si arrende, nei prossimi giorni sono in programma altre iniziative, ma soprattutto si punta con convinzione sul ricorso al TAR, sarà discusso il 3 luglio prossimo. Il comitato sta andando avanti con l'azione giudiziaria, è un'iniziativa che sta portando avanti già da tempo e vedremo dove porterà. C'è grande fiducia da quello che mi risulta tra i legali del comitato e quindi guardiamo a questa strada. Il 1 luglio stiamo organizzando insieme al comitato una manifestazione a Roma per portare direttamente nei palazzi del potere romano queste nostre ragioni e le considerazioni che abbiamo fatto sulla riorganizzazione della sanità in Molise. Un fatto però è certo, oggi è sbagliato qualsiasi cosa accade in Molise, dire che la colpa è di uno solo. Oggi c'è stata una condivisione, ognuno deve prendersi un pezzo della responsabilità di quello che sta accadendo nella sanità regionale. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise.it. Open gates per i rifiuti tossici in basso, Molise rinvio a giudizio per tutti gli imputati, è l'articolo a firma di Pasquale Di Bello. Poi Lanciano aggredisce due agenti prima degli esami di Stato, in manette un 21enne di Campobasso, visita di Papa Francesco e polemica sui manifesti pubblicitari e poi deviazioni sulla statale 17 al vaglio, due soluzioni per evitare la paralisi. Piano operativo, i sindacati annunciano lo stato di agitazione, poi Abruzzo, il neopresidente D'Alfonso, presenta l'aggiunta. Maturità al via la seconda prova, Luciano al classico per la versione di Greco, calcolo degli integrali per lo scientifico. Larino, l'acqua torna potabile e poi assaltarono un furgone portavalori nel 2012, arrestati gli ultimi due rapinatori della banda. Poi Pozzi, Montedison, Cerce Maggiore, riunione al Ministero dell'Ambiente. Ci sono poi le altre notizie, editoriali, idee e opinioni. E con Di Giacomo Alvetriolo su Frattura, solo promesse disattese e danni irreversibili per il Molise. Ci sono le altre notizie dalla regione, ma anche dall'Italia e dal mondo. Passiamo adesso a vedere primo piano Molise, Open Gates, 14 persone alla sbarra, il titolo principale. A giudizio anche l'ex presidente Iorio e Antonio del Torto, all'epoca dei fatti commissario del COSIB. L'inchiesta travolse politici e funzionari pubblici e portò a galla un traffico illegale di rifiuti pericolosi. E poi vediamo le altre notizie in alto. Cerce Maggiore, Pozzi radioattivi, si andrà in profondità grazie a una task force. Lo ha stabilito il Ministero dell'Ambiente. Al vertice il senatore Ruta e il consigliere Ciocca. Campobasso aggredisce i carabinieri mentre va a fare gli esami di maturità. E' stato arrestato, il 21enne era diretto a Lanciano, fermata a un posto di blocco da Di Matto. Venafro ha vietato trasferire il reparto di ortopedia. Il comitato chiama il 112. Il prosantissimo Rosario avverte l'ASREM si deve attenere alle disposizioni del TAR. Campobasso, Corpus Domini, la festività più attesa dell'anno entra nel vivo. Centro cittadino invaso dalle bancarelle, ma la crisi si fa sentire pure tra gli ambulanti. Vediamo poi le altre notizie di primo piano. Isernia, la protesta clamorosa dei dipendenti del Veneziale in corsia con il lutto al braccio. L'iniziativa per denunciare che in Molise la sanità pubblica sta morendo in favore di quella privata. Campobasso, Papa Bergoglio, involontario, testimonial di una marca di borse. Scoppia il caso. E poi, statale 17, spezzata in due, Callora, Lanas, Bacchetta. Le istituzioni hanno condiviso ogni decisione. Ieri il tavolo in prefettura si punta a dimezzare i tempi di esecuzione dei lavori sul viadotto. Dall'Abruzzo, Vasto, Vigili Urbani, nuove assunzioni a tempo indeterminato. La penna annuncia presto il bando per tre unità. Serie D, lupi dal sindaco per Selvapiana. A termo l'incontro tifosi dirigenza. Calcio a 5, l'esernia getta la spugna. Niente, Serie A2 per i pentri. Queste sono le notizie di primo piano. Passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise. Open gates, tutti alla sbarra. Politici, imprenditori e funzionari pubblici. Sono stati rinviati a giudizio. Gestione, rifiuti in basso Molise. falso, abuso d'ufficio, concussione, corruzione e reati ambientali. Viadotto Callora, l'obiettivo è accelerare i tempi di consegna. Nanni non ammette ritardi. Campobasso intervista al sindaco. Battista con il Papa. La città darà il meglio di se stessa. Vediamo le altre notizie ancora. Campobasso farò tardi agli esami e si scaglia contro i carabinieri di San Ventura con arresto per un 21enne di Campobasso a Lanciano. Isernia, Santissimo Rosario e Veneziale Medici con lutto al braccio. Sanità da curare. I 5 Stelle ribadiscono, tuteliamo i cittadini. Isernia, candidatura che fa fibrillare i moderati. Provincia, Mazzuto e della partita salgono le quotazioni di sorbo. ITR, subito la cassa integrazione, guadagni straordinaria per evitare disordini. Ci sono poi le notizie di sport, serie D, stadio Selvapiana, primo incontro tra comune e società, calcio a 5, si chiude il ciclo dell'esernia dopo anni di successi, torneo di Corpus Domini, eccola due giorni di calcio giovanile. Vediamo come titola la gazzetta del Molise. Molise diviso. I lavori sul viadotto Callora bloccheranno la viabilità fino al 2015. E c'è l'approfondimento a pagina 3. L'Oscar del giorno, la gazzetta del Molise lo assegna Mauro Natale, il tapiro del giorno a Vincenzo Cotugno. Il sannio quotidiano con le notizie relative al Molise statale 17, avanti tra disagi e polemiche. Intanto l'ANAS è finita nel mirino delle associazioni edili e piccole e medie imprese. Iorio intanto attacca la Giunta. Ieri vertice in prefettura a Campobasso preoccupano i tempi stimati per le operazioni. Si parla di un anno. Quotidiani nazionali adesso con la Repubblica. Berlusconi torna all'attacco. Vuole la grazia. L'ex cavaliere in aula a Napoli. I giudici irresponsabili, dice. Altri lasciano SEL, Renzi a Grillo. Vediamoci mercoledì. Unione Europea scontro su Yanker. Spunta l'ipotesi di una donna. Iara, il GIP, conferma le accuse. Bossetti poteva uccidere ancora. E poi azzurri la partita della verità. Lacrime inglesi e quasi addio. E si parla di mondiali. Questa sera la partita dell'Italia con Costa Rica. Passiamo adesso a vedere il Corriere della Sera. Non mi arrendo al DNA. Il delitto di Iara. Il presunto assassino resta in carcere. Il giudice dice è malvagio. La madre di Bossetti dice è innocente. Non tradì mio marito. Berlusconi teste in aula. Voi giudici incontrollabili, dice l'ex Cavaliere. E il processo contro Walter Lavitola. Riforme si stringe sul nuovo Senato. SEL nel caos fuga dei parlamentari verso il PD. Renzi a Grillo ci incontreremo mercoledì. Passiamo a vedere adesso come titola il tempo. Nuove accuse, altri dubbie su Iara. Scoppia il caos giallo. Il GIP non convalida il fermo ma lascia Bossetti in cella. L'indagato sbotta. Sono innocente. Non conoscevo la ragazza. L'ordinanza del Viminale parte la sperimentazione. Vandali, sorridete ora. I poliziotti vi riprenderanno. Dal tempo passiamo adesso a vedere come titola invece la stampa di Torino. Senato c'è l'accordo e Renzi chiama Grillo. Lettera al leader 5 Stelle. Vediamoci mercoledì. Tiene l'asse con Berlusconi. Solo una ventina di sindaci su 100 membri. E poi Felipe giura riflettori su Letizia. Si insedia il giovane re di Spagna. La regina vicina al modello Diana. E c'è questa foto con Felipe e Letizia. Passiamo adesso a vedere il giornale. Iara, giudici allo sbando. Il caso non è chiuso. Il GIP non convalida il fermo del presunto killer ma lo lascia comunque in carcere. Dietro c'è una guerra tra magistrati. L'avvocato Buongiorno dice il DNA non è una prova. Estate chic tra i privilegi. La Boldrini ha sbafo nel bungalow presidenziale. Scrive il giornale. Trascorre quasi ogni weekend nel capanno di Castelporziano a sua disposizione. L'articolo a firma di Massimiliano Scafi. Dal giornale all'unità. Riforme Renzi, Stana, Grillo. Il Premier scrive ai capigruppo del Movimento 5 Stelle. Ebbene il dialogo. Vediamoci mercoledì. Palazzo Chigi fa sapere che si parte dall'Italicum e non si ricomincia da capo. Boschi incontra Forza Italia e Nuovo Centrodestra. L'accordo è a un passo. Fiat il nuovo ricatto di Marchionne. Il manager scrive agli operai della Maserati dopo lo sciopero di un'ora. Così rovinate le immagini all'estero. Bloccati gli straordinari in tutti gli stabilimenti. E il trasferimento di 500 lavoratori da Mirafiori. Vediamo adesso libero le tre mosse di Renzi. Per prendersi i giudici il piano del Premier. Anticipare i pensionamenti. Mettere uomini suoi al CSM. E abolire i ricorsi contro le nomine che farà l'organo di autogoverno. Così Matteo vuol mettere le briglie alla magistratura ed evitare la fine del Cavaliere. Da libero. Passiamo adesso a vedere gli altri quotidiani nazionali. E vediamo il mattino di Napoli. Berlusconi attacca i giudici. Toghe responsabili servizi sociali a rischio riforme. Intesa PD Forza Italia. A fondo al processo La Vitola. Milano il CSM archivia l'esposto contro Bruti. Ma invia gli atti in Cassazione. Il fatto quotidiano. Il decreto fantasma. Si infittisce il mistero sull'epocale riforma della pubblica amministrazione. Al Quirinale sostengono di aver ricevuto solo delle bozze molto confuse. Mentre gli uffici del Colle chiedono lo spacchettamento in due provvedimenti distinti. E falcidiano un centinaio di articoli. Insomma un gran casino. Scrive il fatto quotidiano. Una settimana dopo il Consiglio dei Ministri e l'annuncio del premio. E ancora si naviga a vista. Vediamo adesso a venire. Il quotidiano dei Vescovi. Fuga dalla violenza. L'odissea dei ragazzi eritrei che sognano l'Europa. In Italia è sempre più emergenza per i minori soli. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. 3.000 dal corno d'Africa nel nostro paese. Molti vittime della criminalità organizzata. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Avanti. Ragazzi. È il titolo. Palla lunga e pedalare. L'analisi di Errigo Sacchia. Recife contro i Costaricani. Conta solo vincere per ipotecare la qualificazione agli ottavi. Dentro Buffon. Abate e Thiago Motta. Barzagli recupera. Balotelli convinto. Voglio la finale. Sarà il Mondiale dell'Italia. Non il mio. Poi Suarez show. L'Uruguay vola. L'Inghilterra è praticamente fuori. I nostri avversari sotto gli occhi di Ibrahimovic. La Celeste vince 2-1. In gol anche Runei per l'Inghilterra. Una doppietta dell'attaccante del Liverpool, Suarez. Affonda Oxon e avverte Prandelli. Poi quadrado ok. La Colombia è agli ottavi. E poi ci sono gli approfondimenti sulle altre squadre nel Mondiale brasiliano. Giulini, il mio Cagliari con Zeman. Parla il neopresidente della formazione Sarda. Mi affascina il gioco di Zdenek. Lascerà un'impronta. Amo il calcio. Voglio un Sant'Elia da 30.000 posti. E' tutto. Termina qui la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre alle 14 con il Tg. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato.